In questa breve video-lezione noi parleremo di poetiche e ideologie del fanciullino di Pascoli. In effetti abbiamo già dedicato al fanciullino di Pascoli un'altra lezione nella quale analizzavamo la prosa del fanciullino, quindi questo testo appunto apparso dopo che Pascoli aveva pubblicato diverse raccolte poetiche e in questa prosa Pascoli riassumeva un po' tutte le sue idee di poetica. Quella era un'analisi più strettamente filologica, cioè abbiamo preso alcuni passi fondamentali della prosa e l'abbiamo commentato. Oggi invece cercheremo di inquadrare la poetica e il fanciullino velocemente all'interno del clima del decadentismo e con particolare attenzione invece all'interno del clima storico dell'epoca, cioè la fine dell'Ottocento. E cominciamo. Allora, in Pascoli convergono tutta una serie di influenze, una più interessante dell'altra. Il classicismo è evidente che conoscesse il mondo classico molto molto bene, conosceva la lingua, aveva vinto molti certamina latini. Nello stesso tempo però Pascoli ha aperto anche le istanze che venivano dalla Francia, il positivismo, e in questo in qualche modo sia per il classicismo che per il positivismo ripercorre, possiamo dire, la posizione anche di Carducci, di cui Pascoli è stato un allievo. Nello stesso tempo però introduce nella sua poetica, nelle sue poesie più riuscite, nelle sue raccolte più importanti, anche quella venatura del decadentismo, quella venatura misteriosa e misterica che fanno appunto di Pascoli un grande poeta. Andiamo a vedere un pochettino più nello specifico queste influenze che poi richiameremo alla fine della nostra lezione. In particolare cioè dal classicismo arriva in Pascoli il linguaggio letterario, presente chiaramente in alcune sue opere, meno probabilmente in quelle più importanti, anche se Milice di fatto porta un nome evidentemente classicheggiante. Importante invece è la precisione lessicale che troviamo per esempio in Milice ma anche in Canti di Castelvecchio e questo è effettivamente un retaggio del positivismo. Ma il tutto naturalmente si combina con lo sperimentalismo che in Pascoli è notevolissimo. Parleremo, abbiamo già parlato, ci siamo già soffermati sul lessico pascoliano e soprattutto sull'uso dell'onomatopea. Ma faremo anche un video specifico proprio sull'onomatopea e quindi sullo sperimentalismo che è presente nella poesia pascoliana che è il suo tratto importante insieme con l'impressionismo di cui hanno parlato anche alcuni grandi critici letterari e questo è un tratto evidentemente decadente. Ecco, in che modo Pascoli riesce a fondere questi elementi e soprattutto quale figura intellettuale esce alla fusione di questi tre elementi così importanti? Andiamo a vedere. Innanzitutto il poeta per Pascoli deve diventare un fanciullo, quindi deve regredire a livello infantile nell'età dell'infanzia perché il fanciullo dice Pascoli, l'abbiamo ben detto in quella video lezione sul testo intitolato appunto Il fanciullino Il poeta, ogni uomo ha dentro di sé un fanciullo, insomma, solo che talvolta crescendo non ascoltiamo più la sua voce. Il poeta per essere poeta deve invece ascoltare la voce di questo fanciullo, quindi deve appunto diventare egli stesso un fanciullo. E allora vediamo un pochettino questo poeta fanciullo in che cosa consiste. Innanzitutto il poeta fanciullo non inventa nulla ma scopre, e questo è il tratto più strettamente decadente, scopre il mistero che è nascosto dietro l'apparenza delle cose. È come se appunto il fanciullo sollevasse quel velo di maia che Schopenhauer riteneva coprisse appunto la parte più importante, quindi misteriosa appunto, ma sicuramente la parte più importante delle cose. E quindi il fanciullo, è così spinto dalla curiosità, non si ferma le apparenze come un bambino che vuole sempre smontare il suo giocattolo, poi casomai non riesce più a ricostruirlo, ma in qualche modo vuole vederci dentro. E la stessa cosa del poeta che appunto scopre che dietro l'apparenza delle cose c'è un mistero, che può anche essere inquietante, ma comunque è un mistero nascosto che va scoperto. Facciamo prima un salto nella situazione di fine ottocento, quella storica, per poi tornare e commentare la funzione, quindi l'ideologia del fanciullino in Pasqui. Fino a ottocento quali eventi importanti abbiamo? Ho dovuto fare una sintesi e ovviamente ho ridotto in una sola slide eventi che meriterebbero ognuno una video-lezione particolarmente significativa. La seconda rivoluzione industriale di fatto ha portato uno sconvolgimento completo in tutto il mondo, non soltanto a livello proprio di industria, ma anche nel modo di pensare, nel modo di rapportarsi con il mondo. Quello che viene più evidente, insomma, risulta più evidente, è la lotta tra chi detiene il capitale e le masse operaie. Ci sono scontri violentissimi, disordini, repressioni ancora più violente da parte di chi detiene l'autorità e che appunto uccide, massacra queste masse operaie che protestano. Protestano perché non riescono a sopravvivere, perché gli stipendi sono estremamente bassi, perché le condizioni di lavoro sono estreme, perché appunto questa modalità di approccio al lavoro li sta veramente rendendo delle macchine. Appunto la crisi anche, non soltanto della massa operaia, ma anche la crisi del ceto medio della borghesia, di fronte a quella che, fuori dal titolo di un'opera, è l'organizzazione scientifica del lavoro, che permette cioè alle fabbriche di produrre a costi estremamente ridotti, quindi di fatto costringe il ceto medio che occupava le botteghe, era caratterizzato un artigianato particolarmente ricercato, di fatto questo ceto medio deve chiudere queste botteghe e va in crisi. Quindi crisi del ceto medio, situazione critica nei rapporti tra capitalisti e masse operaie e in tutto questo anche un declassamento dell'intellettuale che egli stesso si massifica in questa società. La sua opera di fatto ha un prezzo. Van Gogh vendeva i quadri, l'arte quindi comincia ad avere un prezzo e si comincia ovviamente a ripensare la figura dell'intellettuale, non più l'intellettuale con l'aureola, ma l'intellettuale, mi riferisco a Bollaire non solo, che perde questa aureola, che si accontenta di questa emarginazione a cui è sottoposto e costretto da una società sempre più produttiva che ha come sua missione quella di produrre sempre di più e produrre probabilmente benessere, un benessere però soltanto per pochi. E quindi questa nuova società, questa modernità fa paura, genera angoscia, inquietudine, in tutti, nelle masse operai, nel cedo borghese e per quanto ci riguarda naturalmente è una figura dell'intellettuale che ovviamente si fa delle domande e cerca di dare delle risposte. E il fanciullino di Pascoli è una di queste risposte a questa situazione di fine ottocento. La missione infatti del poeta fanciullo è quella di vedere la poesia come una consolazione, una consolazione così come era personale per Pasqua e noi l'abbiamo già parlato in un'altra video-lezione, la consolazione contro il male che viene da fuori. Ecco, in senso più generale la poesia è vista appunto come consolazione nei confronti di che cosa? Di quello che abbiamo detto nella slide precedente, cioè delle tensioni di fine secolo. Lo scopo del poeta, la missione del poeta fanciullo, è quello di pacificare le tensioni sociali, quindi di non crescere, di odi tra classi, e quello di rallentare la corsa al benessere materiale promesso dalla società capitalista. Ecco, questi nuovi valori o disvalori, come volete chiamarli, ma insomma questi nuovi valori che nascono fino a ottocento, sono valori che vanno nella direzione di chi più ha soldi, più li può spendere, quindi più può stare bene, più può divertirsi. Ecco, bisogna in qualche modo fermarsi un attimo e ripensare al ruolo dell'uomo in questa situazione e in questa società che promette un benessere materiale. Nello stesso tempo quindi è un tentativo di recuperare una condizione di Eden innocente appunto, cioè un ritorno nella fanciullezza per quanto riguarda il poeta fanciullo o comunque in qualche modo una poesia che contrappone al male che viene da fuori dei valori appunto nei quali credere e dei valori che devono essere consolatori. E allora, e qua riprendiamo anche la diciamo l'eredità classica di Poeta Vate, di Pascoli, come può essere un Poeta Vate a fine Ottocento, come può il fanciullino essere un Poeta Vate, noi pensiamo al Poeta Vate, pensiamo a Carducci, pensiamo a D'Annunzio. Bene, non è la retorica di D'Annunzio, non è quella di Carducci, almeno del Carducci dell'ultimo periodo, ma anche il fanciullo può essere a suo modo un Poeta Vate, cioè può essere l'interprete come i grandi poeti del periodo classico, l'interprete dei grandi sentimenti collettivi, può diciamo esaltare e quindi indicare alla società come proprio obiettivo i costumi civili, i comportamenti cioè civilmente corretti, può richiamare a un'amor di patria che in questo periodo già sta diventando nazionalismo, ma su questo torneremo in un'altra video-lezione e soprattutto attraverso l'esaltazione di quello che si è, si ha, cioè il mito della famiglia. Il Poeta Fanciullino ha una missione importante, una missione sicuramente conservatrice, perché è vero che in Pasquoli si può rintracciare qualcosa di socialismo, ma sicuramente non del socialismo rivoluzionario, è un socialismo che guarda le persone appunto più povere, ma allo stesso tempo dice alle persone più povere di accontentarsi di quello che hanno, quindi una visione ovviamente conservatrice con il recupero di alcuni miti che stavano andando in crisi, abbiamo già visti con i malavoglia, quindi con Verga, come quello della famiglia e ovviamente nel caso specifico il recupero del mito, del nido. mito del nido che, ma questo lo vedremo in un'altra video lezione, non sarà soltanto il nido personale di Pasquoli, ma sarà il nido nazionale e quindi sarà la grande proletaria si è mossa, ma di questo, vi ho detto, ne parleremo in un'altra video lezione.